Musica Telespettatrici e telespettatori di Rossini TV, buongiorno e benvenuti a Casa Rossini. Oggi è il primo marzo, inizia un nuovo mese, che tra l'altro è il quinto mese per Casa Rossini. Inizia di nuovo di lunedì, è una di quelle cose di cui abbiamo già parlato il primo febbraio, che mi piacciono tanto, poi naturalmente si rovinerà su fine mese perché ci sono dei giorni in più questa volta rispetto a febbraio. Comunque, lunedì, primo marzo, i contatti per appunto collegarvi con noi, 351 708 9977 è il numero whatsapp e casarossini, chiocciolarossinitv.it per cosa fare? Per esempio per mandarci la vostra opinione sul sondaggio del giorno, il sondaggio del giorno è particolarmente impegnativo oggi. Cambieresti il tuo passato, sì o no? C'è un sì o no nella domanda, queste foto e queste immagini sono relative al film celeberrimo Ritorno al futuro, dove lui tenta di tornare nel passato per cercare di capire alcune cose sulla sua famiglia. Ed è un film veramente bellissimo, sicuramente l'avete visto, ma andatelo a rivedere perché è divertente e magari vi fa anche fare una riflessione su questo tema che abbiamo lanciato per oggi. Cambieresti il tuo passato, sì o no? Primo marzo, sessantesimo giorno del calendario gregoriano, mancano 305 giorni alla fine dell'anno, oggi è il giorno della sensibilità artistica. Il primo marzo è anche la giornata mondiale del complimento, 24 ore dedicate a far star bene chi ci sta intorno, con frasi dedicate alla sua personalità, ai suoi pregi, alle sue belle attitudini. Naturalmente 24 ore che però possiamo tranquillamente poi divertirci ad estendere per tutto l'anno perché è un complimento. Fa star bene chi lo riceve, ma fa star bene anche chi lo fa. La chiesa cattolica celebra Albino di Angers, non so come si pronuncia in francese, è stato un monaco cristiano, vescovo francese, considerato santo dalla chiesa cattolica. L'evento storico che abbiamo scelto per il primo marzo, nel 1961, sono istituite nell'aeroporto di Rivolto, un aeroporto militare italiano in Friuli, Venezia Giulia, 20 km a ovest di Udine, e le frecce tricolori, il cui nome ufficiale è 313esimo gruppo addestramento acrobatico. La pattuglia acrobatica nazionale dell'aeronautica militare italiana è nata in seguito alla decisione di creare un gruppo permanente per l'addestramento all'acrobazia collettiva aerea dei suoi piloti. Con 10 aerei, dal 1982 sono utilizzati gli aermacchi MB339, con sede operativa presso l'aeroporto di Rivolto, di cui 9 in formazione e 1 solista sono la pattuglia acrobatica più numerosa del mondo. Il loro programma di volo, comprendente una ventina di acrobazie della durata di circa mezz'ora, le ha rese famose e riconosciute come una delle migliori pattuglie aeree acrobatiche a livello internazionale, compiendo acrobazie tutto l'anno. Le ricordiamo anche qui a Pesaro qualche anno fa, a Fano, insomma le vediamo, abbiamo avuto occasione più volte di vedere esibizioni delle frecce tricolori. Il pensiero del giorno, un esteta sa vedere la bellezza anche nella normalità. Abbiamo concluso questo nostro brevissimo preambolo, siamo ansiosi di dare il benvenuto al primo ospite, che tra l'altro ringraziamo comunque anche tutti i giorni per averci aiutato ad allestire lo studio. Oggi è con noi Tiziano Donzelli. Tiziano buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Tiziano Donzelli quando arriva porta dietro, peggio di Babbo Natale, guardate quante cose belle ci ha portato. E tra l'altro oggi sembra proprio essere nel suo studio quasi, perché alle spalle abbiamo, ogni volta lo ricordiamo, le maioliche, degli oggetti d'arte straordinari, il quadro è dietro di me, insomma praticamente viviamo già perennemente dentro la tua arte. A questo punto oltre a viverci nella tua arte ci hai portato anche qualcosa di nuovo, per cui siamo a passare un quarto d'ora piacevolissimo. Lo ricordiamo per chi magari si fosse perso qualche puntata precedente, nella quale Tiziano è già stato nostro ospite, Tiziano Donzelli artista, ceramista, diploma di maturità d'arte al Mengaroni di Pesaro in arte della ceramica, ceramista e pittore, maestro d'arte, nato in Svizzera il 6 febbraio. L'altra volta avevamo guardato qui cosa diceva il librone, però lo riguardiamo, guarda perché non me lo ricordo e allora voglio andare a rivedere il 6 febbraio. Tu sei nato in Svizzera, vero? Il 6 febbraio, il giorno della popolarità, per cui già questa è una bella cosa. I nati il 6 febbraio presentano una forte necessità, anche una grande capacità di essere popolari all'interno del gruppo sociale a cui appartengono. Effettivamente quello che più conta per loro è l'ammirazione e l'elogio delle persone alle quali tengono, dice qui. E poi dopo vedremo di verificarlo. Comunque ci stiamo nella giornata dei complimenti. Oh sì, ci stavo bene. È perfetto. Ugo Foscolo, sei in compagnia di Ugo Foscolo, Bob Marley, Ronald Reagan e Paolo Volponi, che forse magari tra i nomi che ho indicato è il meno noto al pubblico. Allora ricordiamo che è uno scrittore, autore di poesie e di romanzi. Impegnato, apprezzato, accomodante sono i tuoi pregi, ma soprattutto il tuo pregio maggiore è la grande disponibilità a venirci a trovare e l'abilità straordinaria nel creare queste cose. Perché quello che voglio ricordare è che tutto quello che vedete qui esce dalle tue mani e questa è una cosa che già è il mio e ti ringrazio, vi ringrazio. È una cosa carina che ho voluto portare, praticamente sono delle cose in ceramica che non si conoscono, sono delle cose che magari le usiamo tutti i giorni oppure gente curiosa che vuole sapere anche che cos'è. E questo qui nasce dal fatto che, ti dicevo, che questi giorni sono venuti delle scuole qui di Pesaro, quattro scuole, a trovarmi e a questi ragazzi, per incentivarli, per comunque, sai, fargli conoscere meglio la ceramica, per fargli vedere quello che si può fare anche con la ceramica, gli ho fatto questa panoramica di oggetti e praticamente si sono talmente incuriositi che poi sono tornati con i genitori a farglielo vedere. Papà, devi vedere una cosa assurda, è bellissima, Pesaro, non l'ho mai visto. Perché in realtà c'ho questa esposizione con tutti questi pezzi di ceramica e loro sono coinvolti in questa cosa ed è stata carinissima. Ricordiamo, scusa, che stiamo parlando del tuo studio in via Toscanini. Dello studio in via Toscanini, sì, sì. Lo studio in via Toscanini, ricordiamo che è studio nel quale tu tieni i tuoi corsi di varie tipologie d'arte, perché chiaramente i corsi non sono solo di ceramica, ma sono anche di pittura a olio e disegno. Poi hai questa parte dove tu lavori, poi in realtà, e tu vuoi avere proprio il laboratorio. Ecco, c'è un'esposizione grande come lo studio. E c'è l'esposizione, e questa esposizione è visitabile per chi vuole venire a vedere. Naturalmente, quando l'hanno scoperto alcuni insegnanti, particolarmente lungimiranti e attenti a quelli che possono essere i gusti dei bambini e dei ragazzi, hanno capito che poteva essere un bel modo di passare del tempo. Esatto, passare quest'ora, ora e mezza, perché tanto i ragazzi che vedono adesso non possono andare in gita o sono venuti nel mio studio a visitare e a scoprire il mondo della ceramica, perché calcola che a Pesaro la ceramica è stata una cosa basilare, fondamentale. Pesaro è una delle tante M. Ecco, però la ceramica comincia con la C, come è messa? Questa è la domanda che te la devo assolutamente fare, questa domanda. Allora, ceramica è con la C, la M è per maiolica, e ovviamente la domanda è obbligatoria. Che differenza c'è tra la maiolica e la ceramica? È questo che mi chiedono tutti. Perché? Allora, col termine ceramica si indica un po' tutto, no? Comprende, ad esempio, dove noi ci laviamo il lavandino, la vasca, sono in ceramica, ma in realtà è porcellana. Dove calpestiamo il pavimento è ceramica, ma in realtà sarebbe gress semirefratario. Questa è ceramica, ma in realtà sarebbe maiolica. Quindi da che cose sono dovuti questi nomi? Dall'impasto dell'oggetto, quindi questa è una terra tenera, una terra di fiume, in argilla di fiume o viene presa dalle cave, a differenza di un gress, che magari dentro c'è della sciamotte, del mattone macinato, per resistere alle alte temperature, oppure la porcellana che è caolino puro. E quindi diciamo che, oltre all'impasto, a come si fa all'oggetto, è anche la temperatura di cottura. Ad esempio la maiolica io la cuocio a 940-950 gradi, il gress viene cotto a 1100 gradi, la porcellana a 1200 gradi, per cui vedi ogni struttura, ogni forma ha un nome suo poi caratteristico. Io dico, insomma, siamo tutti umani, però ci dividiamo in uomini e donne e poi scindiamo con il nome addirittura. E il loro nome, il nome di questi oggetti è proprio maiolica. E la maiolica, diciamo, per questa tipologia di oggetto è la lavorazione più pregiata, insomma, praticamente. Sì, beh, diciamo allora, la maiolica è un oggetto prettamente italiano, no? Perché sai che Pesaro Urbino con l'antica Casteldurante, Urbania, facevano una maiolica esclusiva per l'Italia, adesso senza togliere niente, anche le altre maioliche, che sono bellissime. Però da noi c'è proprio una bellezza nella decorazione, nello stile, nella raffinatezza del segno. E questa era famosa in tutto il mondo, per dirti la nostra maiolica, capito? A differenza invece di altri paesi, come ad esempio in Francia, in Belgio, in Germania, dove la maiolica non viene lavorata, ma viene lavorato più il gress. Infatti a Faenza che c'è una mostra sulla ceramica ogni due anni, tu guardi la maiolica, ce l'abbiamo solamente noi italiani, il resto francesi, inglesi, spagnoli, e lavorano tutti con il gress. Perché tu usi questo verbo al passato, dici era famosa in tutto il mondo, perché si è perso un po'? Era famosa perché alla corte di Federico da Montefeltro, di Urbino, ha avuto il massimo successo in tutta Europa. Possiamo trovare dei piatti da parata, che si chiamavano nelle corti, nelle varie corti, tipo in Inghilterra, in Francia, hai capito? Se tu vai... No, no, ma quello che volevo dire era, tu dici era famosa, oggi non lo è più, oppure era già famosa quella volta e oggi non è ancora. No, è diventata famosa grazie a questi personaggi che l'hanno portata in Augi, che l'ha fatta conoscere, e poi c'è stata diciamo sempre più... Oggi teniamo comunque destra l'attenzione, oppure si è perso? Ecco, infatti è proprio quello, il fatto di essere anche qui per spiegare, perché bisogna rivalutare la maiolica, la ceramica, bisogna rivalutarla perché è una cosa che ci appartiene, è una cosa che abbiamo negli anni 30-40, a Pesaro con Molaroni, Mengaroni, Lama, è stata una cosa notevole a Pesaro la ceramica, per cui abbiamo questa cosa, abbiamo un museo, il secondo più grande in Italia dopo quello di Faenza, sulle maioliche e come importanza istoriato alla Rosa di Pesaro, abbiamo tantissime cose che bisognerebbe andarlo a vedere, bisognerebbe riscoprire un po' questa tradizione che stiamo perdendo, ahimè, ed è una cosa brutta, perché comunque è una cosa che noi abbiamo già in casa, quindi non dobbiamo andarla a inventare o fare qualsiasi altra cosa, per cui è un peccato... Grazie a Tiziano e grazie ad altri immagino come lui, noi abbiamo la possibilità non solo di avere a casa degli oggetti di pregio realizzati a mano, ma anche di provare a imparare come si fa, che probabilmente è una delle cose affascinanti che si possono tentare nella vita. È una cosa bellissima, perché poi tra l'altro con un po' di creatività possiamo, con la ceramica e argilla, per cui da zero, da un pugno di argilla, possiamo costruire una cosa che può servire anche per il nostro uso quotidiano, no? E ci sono qui degli oggetti, ad esempio... La base dei vasi, vado sul... biecamente... la base dei vasi è quella famosa del film Ghost, si fa contorno... Ghost, esatto, e argilla, che anticamente, diciamo, i vecchi ceramisti prendevano nelle balze dei fiumi, no? E proprio in riva il fiume, la lozza la chiamavano, l'argilla, no? La prendevano, poi la lasciavano... La lozza, soprattutto, era quando dovevi cavarla dalle scarpe, che non andavano via... Esatto, e la classica argilla è quella lì, che si può lavorare e si facevano degli oggetti, diciamo, grezzi, un po' così, no? E quelli tondi, i vasi, eccetera, questi hanno questa forma, perché la si fa col tornio che gira, come da celeberri, ma scena del film di Ghost, è vero, è vero... Si fa lisciando, come si fa? Allora, il resto si può fare sia l'ucignolo, che praticamente è una tecnica, o colombino, si chiama, sono delle strisce di terra, una sopra l'altra, che si mettono e si crea l'oggetto, che può essere un vaso, che può essere qualsiasi altra cosa, oggetti anche strani, particolari... Cominciamo a farli vedere, dai, cominciamo a farli vedere, perché a casa scalpitano e vogliono vedere... Allora, gli oggetti sono i più disparati, nel senso, ad esempio, abbiamo una cosa come questa, con il suo coperchio, che si alza, e praticamente dentro, questa si chiama cioccolatiera, praticamente dentro si mette scagli di cioccolata con un po' di latte, sotto qua si mette un lumino, e il lumino scalda il latte, ovviamente non se tu hai fretta, ma è una cosa che devi lasciare un po'... Sei fretta al microonde, se no... Hai fretta al microonde, se no... Prende questa cioccolatiera, che è curiosa, è una cosa curiosa, abbastanza particolare. Dopo quando si versa si sbrodola, no? No, no, perché tu togli il coperchio e la bevi direttamente... Ah, la bevi direttamente! Sì, sì, togli il lumino e questo qua diventa tazza. Fantastico, è questo, vedi, sono contento di averlo domandato perché non l'avevo capito e magari non l'aveva capito neanche qualcuno a casa. Sì, sì, questa è una tazza. La domanda del telespettatore. Esatto. Questo invece è una tisaniera, vale a dire che... Abbiamo questo problema, lo diciamo a casa. Sì, c'era lo scotch. Del microfono, no, del microfono, lo diciamo a casa e lo ricordiamo, la necessità di far utilizzare agli ospiti il microfono gelato è legata sempre alle norme anticontagio per poterli sanificare e tutto il resto. Capiamo benissimo che sarebbe più pratico, soprattutto per ospiti come Tiziano che devono dimostrare qualcosa, avere il microfono a spilletta come quello che ho io privilegiato, ma purtroppo così non si può fare, per cui è un po' macchinoso. Questa praticamente invece è una tisaniera composta da una tazza sotto, un filtro buccato sotto, dove qui metti delle erbe e il coperchio. Metti l'acqua bollente, erbe dentro il filtro, lasci in infusione, 5, 6, 8 minuti, scoli e praticamente anche qui hai la tua tazza per bere la tua tisana e questa è la tisaniera che anche questa è molto molto utile. Altro pezzo interessante, particolare anche nella sua forma, questo è un equilibrio statico, composto da un coperchio, anche questo, questa è una teiera, sotto una tazza e il suo piatto, tutto ovviamente decorato. Questa decorazione è la decorazione della rosa di Pesaro? Questa è la rosa di Pesaro, tu metti dell'acqua bollente qui... Per far vedere bene alla telecamera la rosa, che così la facciamo capire bene, è quella telecamera lì, la tua, esatto, quella che vedete è la decorazione rosa di Pesaro. Alla rosa di Pesaro, che poi è questa qua che si vede meglio forse nel piattino. Che poi la vedete dappertutto perché... Esatto, poi è ovunque. Qua praticamente metti acqua bollente e filtro dentro, ovviamente chiudi, lasci in infusione, versi nella tazza, però quando praticamente tu la riponi e hai questo oggetto, diciamo, dai, di design, no? Certo. La particolarità è di essere realizzati, pensati, ragionati nella forma, oltre che nella funzione, nella forma e nell'aspetto, ragionati, realizzati e decorati a mano. Perfetto, è quello che contraddistingue il pezzo fatto a stampo o a decalcomania da un oggetto fatto a mano. Certo. Questo altro oggetto particolare è questo deodorambiente, dove qui dentro si mette dell'acqua con delle gocce di olio essenziale, sotto la solita candelina, con dei buchi dietro per l'aria e praticamente la candela scalda l'acqua, evapora questo... Mi dicono che posso provare io a far vedere gli oggetti da me, così almeno a casa li vedono meglio. Ah, sì, sì. Tu mi dici cosa vogliamo far vedere e io... Questo qua è più sul genere, diciamo, di utilizzo quotidiano, poi abbiamo un oggetto singolare, che è quello, un oggetto particolare, dove hai, esatto, la parte sopra che si può togliere, perché dentro va riempito praticamente con quella spugnetta verde da fioraio, no? Perché i buchi sono appositamente fatti per, questo è un portafiori, si infilano dei fiori... Questo è una colorazione che quando io ho visto ho detto, vedi questo mi ricorda la mia tazza col nome, è vero, è vero. Questa, pensa, allora come decorazione si chiama policromo, questa decorazione fa parte proprio di una tipica decorazione di Pesaro degli anni 50, 60, dove questo smalto avorio veniva fatto da Faenza per Pesaro, perché era una decorazione, uno smalto fatto solamente per la provincia di Pesaro, per la nostra ceramica, per la nostra maiolica così in policromo, e quindi era una cosa dai... Quando si vede qualcosa in giro fatto così proviene comunque da Pesaro. Questo è Pesaro, questo è Pesaro, degli anni 50, 60, è una decorazione che andava moltissimo, quando ho iniziato alla scuola d'arte ho cominciato a decorare, a fare queste cose qui e ne vendevo una cosa esagerata, adesso invece sta passando come smalto, come c'è più questa decorazione qui sul bianco, perché forse dicono che sia più impegnativo poi dopo mettere questo oggetto insieme ad altri, per cui ok. Però è talmente forte che anche se non si abbina però c'ha una sua personalità. Sì, 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 era molto bella, poi questa decorazione avolute così con queste foglie dei fiori è stata proprio il cavallo di battaglia di questa decorazione del policromo, molto molto interessante. Ho un oggetto che i bambini quando vengono da me con i genitori lo prendono e fanno vedere, papà indovina che cos'è questo? Mi dicono. Indovina? Indovina che cos'è? Facciamo vedere com'è fatto, ho messo verso giusto, sì. Che cos'è? Vi aiuto, è leggermente concavo e non fa scivolare le cose, non so, immagino io. Sì. Tipo portasapone potrebbe essere? No, allora ti do degli indizi, praticamente lo troviamo. Io lo avrei messo a saponetta, pensa che grezzolone che sono, poco veramente. No, no, saresti un raffinato, un siccone perché è una cosa così. Ti spiego, da Giada i piedini del Leone, i piedini da Leone, li troviamo nei mobili del 5600, per cui è un oggetto che troviamo nella tavola di Federico da Montefeltro, niente po' di meno a Urbino. E questo qua stava al centro del tavolo, questo oggettino qui, molto prezioso, perché conteneva una cosa altrettanto preziosa, che i bambini ormai lo sapranno, no? Che vengono da me, ormai loro. Quello lì è un portasale, un portasale molto raffinato perché il sale nel 5600 era una cosa solo da ricchi, per cui lui lo metteva al centro del tavolo. Mai avrei immaginato, ammetto, ignoranza bissata. Ah, ma scherzi, capirai, è normale che sia così, ecco perché magari, è bello anche farle vedere le cose, nel 1500, anni 2000, sono due... I buchini, i buchini questa volta, però se sbaglio anche questo, se sbaglio anche questo, basta, vado via. Cioè, questo è per il sale e il pepe. Questo è per il sale, però per farti vedere la differenza di due cabine da mare, sale e pepe. Adesso ti svelo una cosa, il prossimo ospite è il sindaco di Gabice, che è già qui in studio e sta guardando queste due cabinette, io lo vedo che guarda le due cabinette con occhio, con cupidigia, e dice, quello potrebbe diventare un bello oggetto per la promozione turistica di Gabice e Mare, anzi Maremonte, come parleremo dopo. È vero però, sono veramente... Sì, sì, due cabine proprio da mare. In stagione. Per dirti dal 1500 in poi. Bellissimo, bellissimo. Un altro oggetto particolare, una cosa abbastanza insolita, è questo che molte signore ovviamente riconosceranno sicuramente, è una scatola, ovvio, oggi, ieri una signora è venuta allo studio, dice, ah sì, sì, io ci metto le collane nella mia scatola, ma sì, può essere anche come porta scollane, però era degli anni 40-50, usato soprattutto nella toilette delle donne, ed è una pettiniera. Praticamente c'era questa sorta di privacy, riservatezza nella donna, quindi quando si spazzolava i capelli, per non far vedere i capelli in giro al marito, li nascondeva, diciamo, accuratamente dentro questa pettiniera. Infatti è abbastanza ovale, lunga. Ovale, no? C'è questa cosa, beh, bella, bella, bella. È una pettiniera. Queste decorazioni sono, diciamo, da te rilevate da disegni d'epoca? No, questa qua è secondo di cosa mi ispira. Ah, sì, questo qui è una decorazione a raffaellesca a fondo bianco. Ma no, tranquillo. Mi casca un pezzo di questi. Una cosa invece... Mi devo continuare a casa Rossini fino a dicembre. Assolutamente no. Una cosa invece mia, personale, che ho fatto sono questi. Questa, farla vedere te perché è bella. Sono dei fiori, praticamente sono dei fiori dove li ho fatti proprio appunto perché ovviamente puoi metterci l'acqua, anzi non ci metti l'acqua, non devi curarli. Sono in ceramica per cui anche sotto il sole puoi tenerli tranquillamente. Sono di diverse fatture, questo un po' più grande, questo invece un po' più piccolino. La caratteristica di questi fiori che cos'è? È che sono sempre in ceramica, l'interno, cioè tutto l'esterno è ceramica, decorata, l'interno invece ho fatto una pallina di biscotto. Praticamente è l'argilla cotta ma non in vetriata. Per cui cosa ho pensato? Ho pensato di metterci un olio essenziale. Un olio essenziale che ovviamente fa da profumatore e quindi anche il fiore poi profuma. Non so se vi rendete conto, questi sono praticamente fiori finti per cui non richiedono la necessità e le cure. Però profumano, meglio di così, e poi tra l'altro si ricarica questa profumazione. Ah sì, 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 una volta che finisce... Si mette due goccine e ritornano male. Puoi far fare il profumo che vuoi. Sì, 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 è vero, è vero. Allora, questo qui è bellissimo per chi vuol mettere lì, magari in abbinata con questo. Ah beh, sì, sì, certo, certo. Benissimo, benissimo. Fiori profumabili. Profumabili, profumabili. Poi abbiamo questi fischietti a campanella anche poi tra l'altro, ma al fischietto sopra. Ed è una cosa che generalmente avevo fatto dei corsi con i bambini. Adesso non abbiamo costruito proprio la campanella, ma abbiamo fatto questi fischietti tipo questo. Adesso, quello che ci tengo a sottolineare, mentre Tiziano sceglie un altro oggetto, è questo. Non è che stiamo facendo vedere queste cose per venderle. No, assolutamente. Non facciamo il mercatino. Cioè stiamo solo dando dimostrazione di quanta varietà di oggetti possono essere realizzati a mano da un artista che li sa fare, con un materiale come la ceramica maiolica e soprattutto, non chissà dove, ma nella nostra città. Insomma, la somma di tutto questo credo che sia un po' l'essenza di quello che Casa Rossini vuol fare. Cioè vuol dare evidenza alle eccellenze, alle particolarità, alle curiosità che offre il nostro territorio. Tiziano è una di queste. È vero. Questo è un altro fischietto, leggermente più complicato, fatto a vaso, proprio perché deve contenere dell'acqua. E fa il verso tipo di un uccellino con ovviamente il riverbero dell'acqua interna. Qui copiamo un po' la tradizione dei pugliesi, no? Sì, i fischietti non sono pesaresi o marchigiani, sono del sud Italia, però sai, sono quelle cose che magari prendi anche per far fare ai bambini, perché magari è una cosa divertente. Esatto. Poi si passa degli oggetti un po' per... Abbiamo delle robe un po' nascoste lì dietro. Ah, li abbiamo tenuti un po' nascosti. Questo praticamente sarebbe un seno femminile con un manico. Bello. Bello, bella copettina. Ovviamente questo qui è un Versalatte, una lattiera, è una lattiera. Ovviamente il nome è quello. Sono oggetti fatti così per divertirsi, ma che Tiziano mi diceva che hanno un discreto successo. Un discreto mercato. Cioè uno si impegna a fare la rosa di Pesaro, a fare la saliera, la pettiniera, Raffaello e tutte cose. E poi dopo invece cosa va? Va il versavino. Esatto. Tipo questo, praticamente, che viene usato negli addi al celibato, dove all'interno si mette del vino bianco e ovviamente il boccaglio si capisce. E poi ci sono anche altre cose, anche più particolari, che ho preferito non portarle, proprio perché... Chi lo vuole vedere, magari anche comprare, può venire in studio. Può venire allo studio a vederli o sì, sì, a curiosare. Perché c'è proprio una vetrinetta apposta, vero? C'è una vetrinetta apposta. Ma te pensa, Tiziano, ragazzi, voi lo vedete tranquillo così e te pensa cosa ti fa. Bisogna studiarle tutte, Paolo, bisogna studiarle tutte. È vero. Ho lasciato, per ultimo, questo oggetto perché, diciamo, è il più curioso. Qua i bambini, ovviamente, vanno a nostre con un oggetto così. Poi, ieri che ho avuto questo corso, hanno portato i genitori, indovina quello, come si chiama? E gli fanno un sacco di domande perché è veramente curioso. È un oggetto che ha una sua storia. Praticamente lui si chiama Bevi se puoi. È un vaso costruito da questo ceramista perché nel 1800, come poi tra l'altro oggi non è cambiato assolutamente niente, il ceramista veniva paragonato al contadino. Cioè, dici, cosa fai? Lavori l'argilla? Sei un contadino. A differenza del Giappone, dove il ceramista è paragonato al chirurgo, alla figura del chirurgo. Ecco, quindi, per dire, cambia completamente la storia. Però questo ceramista realizza questo Bevi se puoi, lo riempe di vino, lo porta ai suoi amici e dice, Bevi se puoi. Loro, ovviamente, lo guardano e dicono, beh, ci hai fatto i buchi nel collo. Ma in realtà dice, no, in realtà questo è un oggetto funzionale. Però se tu sei più intelligente di me, devi capire il sistema che c'è per bere da questo vaso. E ovviamente, neanche a dirlo, che è difficile scoprirlo, no? I più arditi forse riescono a capire che la parte del manico, questo, e la parte della bocca, è incava dentro e vuota. Ah, ecco. E vedo, però, dici, ah, vabbè, basta che aspiri da qua e ovviamente bevi il liquido, no? Fa tipo forma di cannuccia. Fa cannuccia. In realtà, no, lui è stato ancora più intelligente. Cosa ha fatto? Ha fatto un buco qui sotto il manico qua, proprio qui. Un buco che, se tu non lo chiudi e aspiri, se qui lo chiudi e aspiri, viene sul liquido. Se lo lascia aperto, ovviamente, non viene su niente. Per cui, ecco. E quindi, capito, bevi se puoi. E quindi bisogna ricorrere a questa cosa, questa, diciamo, particolarità. Un altro bevi se puoi ha fatto con altre bocche. E quindi qui, oltre a chiudere, a sapere che c'è il buco sotto, che è sfiata, devi sapere anche qual è la bocca che esce fuori il vino. Dopo i bambini lo sanno, ormai glielo ho detto. Questa qui iniziale, per cui tu ti dici, ah, è quello. Però, ecco, decorati sempre alla rosa di Pesaro. Si possono fare anche altre decorazioni o altre forme più piccoli, più grandi. Anche magari, no, per fare degli scherzi quando fai una cena. Allora, una meraviglia che ci ha permesso di passare 20 minuti in serenità e immersi nelle cose belle che vengono realizzate nella nostra città. Io direi che rinnovando l'invito a Tiziano a tornare a trovarci quando ha degli altri oggetti, delle altre cose. E a voi ad andare a vedere sia sul sito www.tizianodonzelli.com Studio d'arte Donzelli Tiziano E poi, magari, perché no, anche interessarvi per qualche corso. Perché poi mettere le mani nelle tele per fare dei quadri a olio, nei fogli per fare disegni e soprattutto in mezzo all'argilla per provare a realizzare queste cose, credo che sia una grande soddisfazione. A me riserva anche se portassi i bambini a vedere queste cose, capito? Esatto, esatto, esatto. I ragazzi, perché sono curiosi, quindi io ripongo molto sulle nuove generazioni, perché ormai noi l'abbiamo assassinato, per cui ecco, l'abbiamo già dato. Invece i ragazzi sono molto curiosi, vedo che sono interessati, sono... per cui rivalutare questa ceramica, questa maiolica, hai capito? Da parte dei ragazzi, io ci credo molto. Perfetto, lo contattate attraverso i siti, trovate i numeri di telefono e tutto quanto, e poi la sede è in via Toscani di 5, Pesaro, Tiziano Dondelli, grazie per essere stato con noi oggi e grazie per tutto quello che ci hai portato e che ci hai anche lasciato e che i telespettatori sono abituati a vedere. Adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo subito dopo con il sindaco di Gabiccia, Domenico Pascuzzi. Restate con noi. Ed eccoci allora, il tempo di sgomberare dalle meraviglie che ci aveva portato Tiziano Dondelli. Siamo in studio, come preannunciato, con il sindaco di Gabiccia, Domenico Pascuzzi. Buongiorno a tutti. Ho potuto ammirare le ceramiche che mi hanno preceduto, ma volevo darti un'informazione che è una tradizione di ceramisti, perché nel 1500 Girolamo e Giacomo Lanfranco, padre e figlio, hanno lanciato queste ceramiche bellissime che sono poi conosciute anche a livello internazionale perché si dice che molto probabilmente i due sono stati un po' i pionieri dell'utilizzo del loro zecchino nelle decorazioni, quindi abbiamo anche dei piatti esposti al British Museum, quindi c'è poi l'arte della ceramica, non si scherza, non si scherza. Sono contento di questo perché poi aver dato una vetrina a questa cosa particolare del territorio non può che innanzitutto far piacere e poi aprire magari, ecco, perché no? Andremo anche a scoprire la tradizione di ceramiche gabiccese. Mi ricordo un negozio... C'è ancora, tra l'altro appunto viene utilizzato le ceramiche fosche, hanno un piccolo laboratorio che è attivo tutte le estate ed è bello perché portano i bambini a scoprire come si fa la ceramica, lì parliamo di terracotta, ma è bello perché è un modo per far conoscere questi materiali. Allora, Domenico Pascusi, sindaco di Gabicce, è stato già con noi, ma online, in una delle prime puntate perché il 25 novembre noi avevamo cominciato da poco, avevamo cominciato il 16, per cui era proprio ancora nella fase iniziale. Torna questa volta in presenza, tra l'altro avevo scherzato nella paggelle che ho fatto agli amministratori a Natale, abbiamo fatto ci siamo divertiti, avevo scherzato su questo tuo non voler lasciare non presidiata la riva del tavolo. Ho detto, pur di non lasciarla presidiata, ha fatto il collegamento online. Finalmente, dai! È molto bello essere qua presente in studio, è tutta un'altra cosa. Sì, è sempre più bello e tra l'altro con una giornata come oggi, insomma, fresca, ma con questo sole, il giusto primo marzo. Assolutamente, diciamo che il mese iniziato così fa ben sperare. Esatto, esatto. Allora, Domenico Pascusi è nato il 18 novembre. 19 novembre. 19 novembre. Allora, noi abbiamo questo librone nel quale... Cosa esce fuori? Vediamo cosa esce proprio il 19 novembre. Il giorno del riformatore, ma pensa te, pieni di spirito rivoluzionario, in atti il 19 novembre vogliono cambiare a tutti i costi le cose, tuttavia non si accontentano della semplice ribellione, sono dei veri riformatori ansiosi di costruire qualcosa di nuovo da sostituire al vecchio e poi di gestirlo. Insomma, direi che non è proprio male. No, perché mi viene in mente nel 2014 la mia lista si chiamava insieme per cambiare. Vedi, vedi, neanche avessi letto il libro. Neanche avevo fatto apposso. I nati del giorno, Alessandro Borghese, lo chef, Jody Foster, Indira Gandhi, insomma, sei in compagnia discreta, attuale, convincente, costruttivo, sono i pregi indicati dal nostro libro. Mamma mia, no, bene o male. A vedere le reazioni. Mi è andata bene. Allora, ci sono degli aggiornamenti da quando ci siamo sentiti l'altra volta. L'altra volta avevamo parlato più del passato, no? Avevamo parlato dell'estate che era novembre, però ancora si sentiva molto vicina come iniziative e tutto quanto. Adesso questi tre mesi ci hanno fatto passare dallo sguardo sul passato allo sguardo sul futuro. Un futuro che in effetti dobbiamo un po' affrontare con la filosofia che abbiamo elaborato proprio qui in studio con altri ospiti del come se. Cioè, molti stanno affrontando il futuro con la filosofia del come se finalmente questo virus si lasciasse. Anche perché se no rimanere con i piedi su due staff è complicato. No, bisogna essere sempre costruttivi e propositivi, quindi pensare in maniera ottimistica, quindi pensare che comunque c'è una stagione che va affrontata e quando si affronta le stagioni vanno programmati in anticipo. Quindi noi dobbiamo programmarla come se, come dici te Paolo, esatta l'indicazione. È chiaro che non sappiamo poi esattamente, però abbiamo affrontato l'estate scorsa molto bene perché non ci aspettavamo sinceramente di poter salvare una stagione perché uscivamo veramente da un lockdown molto pesante, tant'è che la stagione si è avviata naturalmente con molto ritardo perché è iniziata a fine giugno, giustamente. Però vogliamo pensare positivo, non è il massimo del termine, però in maniera ottimistica perché bisogna farsi trovare pronte, quindi stiamo cercando anche lì di programmare insieme alle categorie degli albergatori, dei commercianti, degli concessionali di stabilimenti balneari, una stagione che possa essere il più possibile attrattiva tenendo conto di quelle che potrebbero essere anche limitazioni, ma non ci hanno spaventato la scorsa stagione, quindi non ci spaventano neanche in questo caso. C'è tra l'altro tutto un pregresso in preparazione su alcune cose che sono iniziate l'anno scorso e che si stanno sviluppando, per esempio c'è l'aggiornamento sui lavori a Mississippi. Il lavoro a Mississippi, prima infatti vedevo scorrere delle immagini del vecchio Mississippi, adesso c'è solo la piattaforma, quindi abbiamo proceduto alla demolizione. La prima costruzione sarà un nuovo manufatto, c'è un po' la rinascita di quel luogo che per Gavice Mare è un luogo simbolo, perché è la prima costruzione in mare che si trova venendo da nord, poi è ovvio che abbiamo poi la rotonda di Senigallia andando più in basso, ma è un'unicità su cui abbiamo puntato molto. L'abbiamo presa noi in concessione dal Demanio, perché è un bene demaniale, è un progetto molto innovativo, perché vogliamo andare nella linea anche della famosa Green Economy di cui si parla, perché dopo il Palazzo Comunale, che è un edificio enzeb, quindi un edificio in legno a consumo quasi zero, anche il Mississippi sarà un edificio enzeb. Naturalmente non in legno, perché è materiale, siamo sul mare, ma sarà la struttura in acciaio e poi i rivestimenti saranno di una costruzione molto innovativa. Ha fatto discutere, perché poi quando si fa qualcosa di nuovo, come sempre può piacere il progetto architettonico a qualcuno, può piacere a qualcuno no, però noi crediamo molto in questo luogo e vorremmo che diventasse veramente un luogo utilizzato e utilizzabile per ogni scopo. Praticamente quando si mettono le mani in qualcosa che per qualcuno fa parte della tradizione. Esatto. Quasi si vorrebbe in quei luoghi e in quelle strutture fermare il tempo. Il tempo in realtà non solo non si ferma, ma in una struttura messa in mezzo al mare, il tempo incide anche pesantemente su tutto il rumore. Incide prevalentemente sulla situazione di degrado, perché comunque eravamo di fronte a un oggetto chiuso da ormai oltre dieci anni, quindi ci siamo posti la necessità, l'obiettivo, la domanda di cosa vogliamo fare di quel luogo. Quindi è ovvio che il privato che si approcciava per un utilizzo, quello che poteva essere in origine come ristorante o sala da ballo, si allontanava perché i costi di ristrutturazione erano molto sostenuti, molto importanti. Tant'è che ci siamo messi in gioco, quindi abbiamo puntato molto, abbiamo trovato già delle risorse dalla regione Marche che ci stanno aiutando in questa opera di riqualificazione. Stesso per i contributi del GSE, quindi efficientemente energetico, che ci ha permesso di avere un'altra quota di fondi e stiamo cercando di trovare fondi un po' su ogni luogo, ma vorremmo che diventasse una sorta di centro polivalente dove si possono fare tante cose. È chiaro che adesso vedere solo questa piattaforma ha suscitato anche un dibattito, perché ci sono coloro che vorrebbero lì una piazza, però tecnicamente non è possibile, è bella, suggestiva, ma tecnicamente è un bene del demanio e quindi conseguentemente essendo bene del demanio è difficile che poi il demanio, quindi lo Stato, rivoglia indietro una piazza, un immobile. Però ecco, noi ecco lì si può vedere, ma sarà, garantisco sulla buona riuscita. Vederla pulita così, mi ha ricordato il film L'Isola delle Rosi, Ecco, esatto, di stato, di un po' stato autonomo, paradiso, all'argo di Rimini, questo diciamo, siamo molto vicini alla terra, però ricorda molto l'Isola delle Rosi di Rimini. Esatto, che era questo film, se non l'avete visto cercatelo perché tra l'altro riguarda le nostre zone per cui vi ritrovate ed è un film che racconta appunto di questa storia, non troppo nota, perlomeno io la conoscevo ma molto vagamente, di qualcuno che sarà messo in testa di creare uno Stato in un'isola fuori delle acque territoriali poco a largo di Rimini, facendo una piattaforma praticamente, va bene, andatelo a cercare. Allora, dicevo, il Comune di Gabice tiene talmente tanto a questo discorso del Mississippi di averlo messo come punto chiave del nuovo brand. Infatti, l'anno scorso abbiamo deciso di darci un'identità, perché Gabice Mare aveva un po' tante peculiarità, quindi era conosciuto per tanti fattori, abbiamo cercato di interpretare al meglio quelli che sono un po' gli aspetti, diciamo, positivi, quindi diciamo le caratteristiche e le peculiarità del nostro territorio. Quindi abbiamo creato, abbiamo puntato, grazie a degli esperti professionisti del settore, in primis Laura D'Amico, che ci ha aiutato nello sviluppare questo brand, che è un'esperta grafica, abbiamo elaborato questo brand, Gabice Maremonte, proprio perché Gabice si contraddistingue che è questo, si contraddistingue proprio per il mare e per il monte, tant'è che in queste icone che vediamo rappresentate ci sono le tre peculiarità, quindi la parte arancione e rossa rappresenta il Mississippi, poi ci sono tutte le araldiche veliche, quindi uno sguardo al passato, che sono tutte le icone rappresentate in bianco, azzurro e blu e poi quei simboli verde, verde chiaro, verde scuro e giallo, rappresentano il parco del San Bartolo. Ad esempio al centro vediamo quell'icona gialla con quel fiore bianco, quella è la ginestra, quindi abbiamo voluto un po' contraddistinguere e puntare proprio sugli aspetti peculiari del nostro territorio. Gabice Maremonte sarà il brand su cui vorremmo puntare per dare un'identità e essere conosciuta a livello internazionale. Infatti queste qui che vediamo rappresentate sono i pali del Mississippi, quindi abbiamo voluto richiamare, queste sono le araldiche veliche, l'anno scorso abbiamo fatto una prima inaugurazione di un murales sul lungo canale dove sono rappresentate le araldiche veliche perché ha una tradizione importante delle barche, delle imbarcazioni dei vecchi pescatori, quindi ogni famiglia aveva una barca e a questa barca veniva dato un nome che poi era un po' il soprannome della famiglia stessa. Poi c'è il monte, ecco lì è rappresentato appunto un po' i vari simboli che rappresentano il mare, il faro, che ci contraddistinguono. Quindi vogliamo puntare sempre di più su questo brand da condividere con tutti, con gli operatori. Ci ritrovo dentro un po' delle mie attività estive perché io ero all'inaugurazione del molo e abbiamo fatto lo speciale con il Mississippi, poi ero ovviamente a Disco Diva che è stato un momento speciale, è stato un momento speciale e c'ero anche alla rappresentazione del brand. Ti voglio fare la domanda che mi sono fatto in quel momento, come l'hanno preso i capicesi di Capice Mare e di Capice Monte di essere uniti in un mare monte che è francamente innovativo e coraggioso? Sì, allora diciamo che appunto come tutte le cose innovative all'inizio è chiaro che magari fanno più fatica a concepire, a capirle, a comprenderle, però poi avendo esaltato i valori del territorio, quindi il monte e il mare, ha trovato una condivisione piena, quindi ad esempio vedere noi vecchi, diciamo le persone un po' più anziane che hanno la storia delle eraldiche veliche e quindi quando passeggiano sul molo e vedono il loro nome della loro barca rappresentata dalla loro vela, quello gli ha dato molta soddisfazione, così come poi le icone che riguardano il monte fanno capire a chi osserva questo brand quanto sia importante puntare proprio su questi elementi, alla fine sono degli elementi. Infatti quello che va capito è che un brand va rivolto verso l'esterno, il brand serve per attirare l'attenzione e per qualificare un territorio, un prodotto, una qualunque cosa, attraverso quello questo è la mia interpretazione, si fa capire a chi conosce Gabice magari per nome e basta che in realtà Gabice riassume due concetti straordinari come appunto quello del mare e del monte. E del monte anche perché aggiungo spesso in questi sei anni da sindaco, mi trovavo sempre molti turisti che mi chiedono ma Gabice e monte fa parte sempre di Gabice, ma Gabice e mare è un altro, cioè il comune è Gabice e mare, poi abbiamo cercato proprio di unire queste due caratteristiche per far sì che all'esterno sia percepito come è giusto che sia un unico territorio, mare e monte. E chiaramente da lì entriamo nel discorso del parco, andiamo a gamba tese nel parco. Ci sembra facile, ci sembra troppo facile, insomma siamo a parlare di questo protocollo d'intesa con Pesare Gabice per il parco del San Bartolo. Guarda, è una cosa su cui ci stiamo lavorando già, poi il lockdown un po' ha rallentato questo processo, ma sia con il sindaco di Pesaro, in particolare con il vice sindaco, quindi con De Nelle Vimini, sia con Filippo Gasperi, sindaco di Gradara, già dallo scorso anno quando ci sono stati gli stati generali del turismo al Beato Sante mi pare, abbiamo pensato di iniziare a lavorare su un brand che possa identificare meglio il territorio del parco del San Bartolo, naturalmente integrando in questo territorio anche il castello di Gradara, perché comunque è sempre una parte terminale, anche se più esterna, ma è legato al parco del San Bartolo. Da qui l'idea appunto di intanto di sottoscrivere questo protocollo d'intesa per la valorizzazione del brand, anche lì dovremmo pensare a un brand, io ho lanciato l'idea della riviera del San Bartolo, un po' come esiste la riviera del Conero, per cui è conosciuta a livello internazionale, secondo me anche il riviera del San Bartolo, poi saranno gli esperti magari a trovare un nome che si addice di più, però vorremmo anche in quel caso puntare molto sulla promozione congiunta fra i tre comuni, perché veramente abbiamo tanto da offrire, Pesaro, sappiamo tutta la storia di Pesaro con la musica, Rossini e non solo, poi Gradara, il castello di Gradara, chi non conosce la storia di Paola Francesca, il vice mare, il vice monte che unisce diciamo la bellezza del mare a quella del monte e da lì appunto la necessità anche di sviluppare nuovi servizi, sempre nella massima valorizzazione del territorio e nel massimo rispetto, perché penso che la natura vada rispettata. Questo credo sia la chiave vincente dal punto di vista della promozione turistica verso l'esterno, anzi più si va verso un esterno lontano e più è vincente l'idea di caratterizzare un territorio dove ognuno mette quello che ha e va a completare comunque in maniera integrata appunto un'immagine, perché è vero, ognuno ha qualcosa di molto particolare, ma da solo difficilmente riesce a farlo arrivare come messaggio di comunicazione e come funzionale all'attrazione, invece quando si identifica un territorio ho la mia sensazione che si possa colpire in maniera più ampia verso un pubblico di destinatari che oggi come oggi ancora ci aspettiamo che arrivino dall'Italia perché sappiamo tutto quanto che è quello che sta succedendo, però insomma torneranno anche arrivare dall'esterno. L'obiettivo è proprio anche di incrementare i flussi turistici, quindi soprattutto quelli con l'estero che negli anni un po' si sono ridotti, anche se noi che avviciniamo ora abbiamo ancora una consistente fetta di turismo che arriva dalla Germania, dal Belgio, dalla Francia e dall'Olanda, però penso che si debba offrire anche perché oggi il turista che sia italiano che sia straniero è più attento a quello che può offrire il territorio rispetto all'andare solo in spiaggia o nell'albergo che può offrire migliori servizi, però il turista oggi sceglie a distanza la vacanza, quindi la sceglie non scegliendo soltanto l'albergo o la spiaggia ma la sceglie anche in funzione di quello che può il territorio offrire, quindi da quelli in necessità, ci siamo ad esempio già da due anni inventati con Gradara questa promozione che abisce Gradara a due vacanze in uno, quindi coniugando la bellezza del mare, del monte, del San Bartolo e del castello. Con me ci stiamo portando avanti itinerari della bellezza che anche quello è un altro ottimo veicolo per far conoscere il territorio ancora più ampio perché abbiamo una provincia che è meravigliosa, quindi il turista se è messo nelle condizioni di poter conoscere il territorio, secondo me è un territorio che può fare ancora di più la differenza per il futuro, quindi lavoriamo per le generazioni future. Abbiamo un paio di minuti per parlare invece del presente e sul presente il tema è come stanno i gabicesi e soprattutto come sta andando la situazione dei vaccini, degli screening, dei tamponi, insomma la situazione della salute. È chiaro che non siamo un'isola, non abbiamo la possibilità di diventare covid free come Callorizzo di oggi, una delle isolette greche che sono riuscite in questo, da noi l'interazione è inevitabile, soprattutto da voi poi con la frontiera vicina della regione e tutto il resto, però dobbiamo pensare al benessere dei cittadini. Assolutamente, bisogna, diciamo è il momento clou secondo me questo, perché è vero che è passato un anno, un anno difficilissimo, complicato dal punto di vista in primis sanitario e anche economico, oggi però ci siamo veramente alla, come dire, manca l'ultimo miglio, l'ultimo miglio che significa ancora massima attenzione e in questo i gabicesi stanno collaborando il più possibile, è chiaro che purtroppo ci sono anche delle situazioni che vanno sempre monitorate e controllate e i dati degli ultimi giorni non ci aiutano, però diciamo che a vicemare in questo devo essere soddisfatto, ancora c'è da avere ancora pazienza perché in ogni caso oggi abbiamo circa 20 positivi, i dati di qualche giorno fa, però al di là del numero dei positivi, al di là del rispetto delle regole, penso che sia fondamentale oggi accelerare sulla campagna vaccinale, perché non lo dico volendo far critiche nei confronti di qualcuno, ma penso che forse siamo un po' indietro, ma c'è la possibilità e il tempo di organizzare una vaccinazione di massa che possa portare entro l'estato a un numero importante di soggetti vaccinabili e vaccinati, quindi è partita la campagna over 80, sta andando molto bene perché abbiamo una decisione su tutta la provincia di oltre 70%, adesso ci aspettiamo che la regione concluda gli accordi con i medici di base per far sì che possano essere vaccinati anche tutti gli over 80, non in condizioni di potersi spostare a Pesaro, abbiamo chiesto nelle riunioni che facciamo tra i sindaci del distretto di poter individuare anche più punti vaccinali, perché pensare di fare una vaccinazione di massa solo su un punto diventa complicato, quindi noi mettiamo a disposizione tutte le strutture, il sistema di volontariato che abbiamo visto che ha funzionato anche quando c'è stato lo screen di massa del mese scorso, ha avuto dei discreti numeri, ma la stessa forza e le stesse energie le mettiamo a disposizione per organizzare al meglio e far sì che si possano vaccinare il maggior numero di persone possibili in tempi rapidi, un po' quello che sta succedendo in Inghilterra, dove oggi abbiamo di fronte un calo importante del 40% di numero di soggetti positivi, proprio perché sono già al 40-50% delle persone vaccinate, quindi c'è da organizzare, da correre, ma noi diamo la massima collaborazione in tal senso. Perfetto, allora ci auguriamo che tutto questo serva poi per lavorare con più serenità sulla programmazione della quale oggi non parliamo, ne parleremo sulla programmazione della... Magari una prossima puntata. Una prossima puntata, tanto noi andiamo comunque avanti e magari ci saranno anche elementi più concreti e certezze un po' meno incerte e noi ringraziamo il sindaco Domenico Pascuzzi per essere stato qui con noi oggi in presenza. Sono molto contento, ringrazio te Paolo per l'invito, sono a disposizione, a vostra disposizione per ogni altro incontro che si può organizzare, quindi ci auguriamo di parlare di turismo al prossimo incontro. Certo, con tutto quello che abbiamo detto sicuramente ci saranno evoluzioni continue, per cui non mancheremo di tenervi aggiornati con una nuova ospitata, anzi Allegra ti invito a prendere subito nota della disponibilità del sindaco. Allora, stiamo per andare con l'ascolto della musica, ma Allegra mi passa, l'edito del nostro primo sondaggio, cambieresti il tuo passato, il 44% dice sì e il 56% dice no, per cui poi vedremo perché il sondaggio va avanti anche dopo la puntata. Noi ringraziamo tutti quelli che ci seguono, che sono Alessandro, Claudia, tra cui Alessandro, Claudia, Gabriele, Sonia, Giadia, Giada, Aurelia e ricordiamo ai musicisti locali di inviarci i loro video, perché noi li proponiamo nel secondo spazio, appunto come fra un attimo andremo a proporre il video di un giovane artista locale, si chiama Gioacchino Rossini, impegnativo come nome, è un video realizzato due anni fa per la settimana delle iniziative dedicate al non compleanno di Rossini, è stato un esperimento, l'abbiamo chiamato Rossini overture pop, nasceva da una mia idea, confrontandomi poi con Amat e col comune di Pesaro e con Riccardo Marongiu che ha diretto 100 musicisti che sulla piazza di Pesaro hanno proposto la loro versione pop della overture del Gugliel Motel. Ce la guardiamo insieme facendo gli auguri a Gioacchino Rossini che appunto oggi o ieri compie gli anni perché il 29 e poi subito dopo saremo con il terzo ospite della mattinata con Elena Parato dell'associazione Villa C'è, restate con noi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.